Benvenuti da parte del Doc Ariani. Oggi video di testimonianza. Che fai in onda Linda? Domenica. Perché domenica? E' la domenica. Ma è sempre domenica. Francesca, la testimonianza di io. Puoi salutare. Ciao. Ha avuto un percorso perché parte come paziente emigranica? Quanti attacchi al mese? Sono arrivata anche a otto. In tempi brutti anche otto. Quindi non proprio grave, ma manco piacevole. Manco divertente. Invalidante, l'emigrania viene anche a letto. Sì, alcuni evitati anche tre giorni. Io conosco bene, quindi so che vuoi dire. E abbiamo provato con un trattamento fetogenico a vedere se poteva esserci, perché sappiamo che non tutti purtroppo gli emigranici possono magari avere lo stesso esito da un trattamento fetogenico. Diciamo che la maggior parte dei casi ci restituisce in qualcosa di sicuramente positivo per il fattore antinfiammatorio, però calibrare l'alimentazione con lei su un soggetto patologico è risultato particolarmente complesso, come con tutti i soggetti patologici, per calibrare bene l'alimentazione, che poi è quella proprio a base di grassi che lei, che lei giustamente si è sottoposta per cercare di trovare la giusta quadra. Un po' come i tecnici Ferrari abbiamo messo a punto però alla fine una bella macchina, perché siamo riusciti a scendere. Dai di quanti attacchi? A oggi con tutti gli scongiuri del caldo io sto su un attacco barra 2 al mese. Hai capito? Grandissimo traguardo che è passato tramite, noi abbiamo fatto delle fasi, poi lei per fortuna, forse se vogliamo, non è proprio quel soggetto emigranico patologico persistente, farmacoresistente, che poi non ha, cioè ha come subito l'attacco emigranico per smettere la chetogenica, perché siamo riusciti ad avere un affetto antinfiammatorio importante e quanti mesi siamo riusciti a mantenere il piano? Quanto era? Quanto è passato? Sei mesi? Siamo stati? Sì, sei mesi. Siamo stati sei mesi, siamo stati in credo. Abbiamo provato, dove abbiamo provato tutti gli assestamenti del caso, prima di beccare la grammatura giusta? Sì, soprattutto dei grassi. Poi a distanza di altrettanti mesi, a oggi, io ho ancora gli effetti, ancora i vantaggi. Abbiamo fatto dei cicli praticamente di risposta, quindi on off, dovevamo capire, dovevamo sperimentare anche in collaborazione con un altro collega, a vedere come reagiva a dei mesi di stop, poi dei mesi di reintegro e devo dire che adesso sta reintegrando bene, ha mangiato un po' tutto, diciamo, di tutto, diciamo, e ancora, per fortuna, con la grammatura giusta, però adesso si mangia tutto. Mangia tutto e continua a mantenere l'effetto infiammatorio che siamo riusciti ad ottenere grazie a questi senni. Quindi per lei non è tanto sul peso che dovevamo perdere, anche se comunque mentre sei sbagliata. Sarà che ti devi sposare? Si vuol dire che ti devi sposare? Certo. Se devi sposare che neanche un po'... Sono un figurino! È giusto, è bellissimo. È sempre stata magra in realtà, forse quasi 30 anni, una cifra indegna di anni che la conosco e devo dire che è sempre stata magra comunque, però adesso ci sta ancora meglio. Sto figurino. Sto figurino bene. Brava! Massa magra, top. Massa grassa, top. Top. Alla grande. Battitesta, top. E quello è l'importante. Super. E questa è una bellissima testimonianza perché come lei magari ha questi problemi. Ripeto, non tutti siamo uguali, però ce la mettiamo in qualsiasi modo per cercare di aiutare anche chi ha questo tipo di brutta patologia perché è molto, molto, molto invalidante. Grazie Prato. Grazie a te. Sei fantastica. Grazie a voi. Salutiamo tutto il mondo. Buona domenica. Ormai più di 6.000 autenti. Grazie ragazzi. Siete fantastici. Ciao. A presto da parte del Doc Ariani. Ciao Linda. Ciao, buona domenica. Buona domenica. Ciao, ciao. Ciao.